Io sono abbastanza ottimista anche perché credo che ogni partito ha delle problematiche interne, ogni partito che fa parte del governo ha un percorso suo interno che deve attraversare, a volte c'è rispetto proprio per ogni partito per quello che deve, il percorso interno che deve fare all'interno del proprio partito, come ci deve essere anche un rispetto per un percorso che fa per esempio il mio partito, il partito democratico, è chiaro che per quanto riguarda la tenuta di governo questa poi sarà valutata in tempi opportuno, ma per quello che sta succedendo all'interno del centro-destra il maggior rispetto è sicuramente per un percorso anche di ricerca di una soluzione interna.